Il Cristo ha sempre rifiutato di essere considerato re, fino a scappare e nascondersi quando la folla, dopo la moltiplicazione del pane, cerca di prenderlo e portarlo trionfalmente a Gerusalemme. L'imperatore a Roma erode a Gerusalemme, vogliamo Gesù di Nazareth re, perché? Perché o piove, o fa freddo o c'è il sole, un segno di croce, pane e companatico per tutti. Cioè il ragionamento della massa degli uomini è un ragionamento pratico. Gesù attrettando fa un ragionamento pratico. Io non sono venuto per comandare. Io non sono re di questo mondo. Il mio regno è il regno di servizio e non di comando. Anche davanti a Pilato afferma Gesù il mio regno non è di questo mondo. Io sono venuto per rendere testimonianza alla vita. Gesù è il re di questo mondo perché ha tanto amato il mondo, fino a dare la vita. Il re di cui si parla sempre, continuamente e a cui si aspira non fa questo discorso. Fa il discorso del comando di perpetuare il suo regno e usufruire di tutte le comodità della carica. Gesù si presenta davanti a Pilato con le mani legato, col volto imprattato di sangue e sputi e con una corona di spine sulla testa. Un re senza cannoni, senza eserciti, senza bomba atomica. Non va in cerca di cariche e onorifiche. Non cerca, fa poste di comando. Chi segue Gesù deve precaricarsi della sua croce e seguirlo perché il regno di Gesù è un regno di servizio nell'amore. Solo per amore però si può accettare questo messaggio di Gesù. Siamo sempre tentati di pensare che solamente la violenza, il denaro, la falsità sono efficaci e quinti da seguire. Padre Pio è stato un uomo politico? Beh, bisogna distinguere. Se per uomo politico intendiamo colui che sponta nella società e alle leve del potere, che giostra per gli interessi del bene comune, ma principalmente per gli interessi proprio e del partito, questo non è seguito da Padre Pio. Padre Pio è stato uomo politico perché, seguendo il detto di Francesco di Assisi, Mente in cielo e occhi a terra. Padre Pio è stato l'uomo mistico, delle grandi estasi, della contemplazione del Signore. Bellissimo! Ma è stato anche l'uomo che ha guardato alle realtà della terra e quindi ha visto la gente che moriva di fame nei tuguri. ha cercato di creare un ospedale e ci è riuscito. Perché? Per salvare da tante malattie, perché in questa zona deserta del Galgano non vi era nulla che potesse portare un sollievo a delle malattie. E allora Padre Pio è stato un re, ma a servizio del popolo. Quindi sotto questo aspetto, senza altro, anche Padre Pio è stato un uomo politico. Anche noi dobbiamo metterci in questa scia di cammino, Mente in cielo e occhi in terra. Questa è la regalità di Cristo. Salvare l'umanità nell'amore, nella gioia e nella giustizia. giustizia. Perché se questi elementi vengono scalfiti un po' più da una parte, un po' meno dall'altra, allora si comincia ad avere le incomprensioni e si compiono le ingiustizie. Regno di pace, di amore, di serenità e di gioia. iscriviti al popolo. Grazie. Grazie a tutti.